Grandi novità per la stagione invernale a Capracotta, senza dimenticare che il 19 dicembre lo Sciclub del paese più alto del Molise riceverà il collare d'oro dal Coni. Le novità sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Candido Paglione, da Agostino Angelaccio, dai giovani della cooperativa che gestirà Prato Gentile e dal rappresentante della locale Proloco. Ci sono delle novità perché non c'è soltanto lo sci di fondo, ci saranno tante altre cose che questa cooperativa è in grado di offrire perché ci sono tutte le professionalità che servono allo scopo, quindi ci saranno attività con le ciaspole, ci sarà inoltre l'apertura di un altro importante elemento di attrazione turistica che è il Baby Snow Park e questo è dedicato ai più piccini, insomma Prato Gentile diventerà una sorta di spiaggia con la neve, quindi mi piace pensare a una cosa del genere, anche l'avvio della messa in funzione di un tapis roulant che darà la possibilità anche a chi vuole utilizzare i bob senza intralciare le attività all'interno delle piste di fondo. Per Monte Capraro rimangono ancora delle criticità, abbiamo una interlocuzione aperta con il Presidente della Regione, stiamo cercando di far capire quanto sia importante all'interno dell'economia più complessiva del turismo invernale di Capracotta anche il funzionamento di quella piccola stazione per lo sci alpino. Per Monte Capraro i soldi ci sono perché c'è una linea di finanziamento all'interno del patto per il Molise che si chiama Turismo Montano che ha una capienza di 12 milioni di euro, noi è da lì che vorremmo attingere i fondi per realizzare non solo il centro federale per lo sci di fondo ma anche per mettere in sicurezza appunto Monte Capraro. Mercoledì prossimo a proposito di sci di fondo, a proposito del nostro importante scicleb che ha ormai 104 anni, mercoledì prossimo il 19 dicembre a Roma nella sede del CONI ci sarà il conferimento di questa prestigiosissima onorificenza che è il collare d'oro al merito sportivo, che è la più alta onorificenza che si possa dare da parte del CONI.